Un modo intelligente per intercettare la domanda di sport, prescindendo da quelli che sono aspetti competitivi. Sono tanto la voglia di fare sport all'aria aperta e quindi da questo punto di vista con una capacità anche di rispettare l'ambiente che è sicuramente utile per poterci permettere a noi del Ministero di avviare anche quelle campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente che stiamo cercando di intraprendere all'interno del mondo dello sport. Grazie.